L'incidente nel pomeriggio di sabato 4 gennaio, intorno alle 15, all'incrocio tra via Rivarolo e via Guidorossa a Salassa, coinvolta una moto Ducati Panigale, condotta da un cinquantenne di Fabria, e una Fiat Panda, con a bordo un uomo residente in Val Chiusella. La moto, dopo aver impattato contro la fiancata della vettura, ha terminato la soccorsa contro il lampione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la risoccorso del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile di Vrea. Il Centauro, dopo i primi soccorsi, è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino, ha riportato diversi politraumi, accertamenti in corso sulla dinamica. Autore dei sottotitoli e di come rincazione Grazie per la visione!